Io vado! Figlio di puttana! Servono l'inforti! Mandate al supporto aereo! Resto in solità! E guarda ancora attacco! Dove! Al riparo! All'attacco! Io vado! Ecco il passaggio! Contatto visivo, chiediamo rinforzi! Pant'acqua dai! Servono rinforzi! Mandate al supporto aereo! Una granata laggiù! Incappertura! Ora vorrai! Maledetto! Non fatelo fuggire! Ora riesco a vederla! Troverò il modo di bravo. Incappertura! Forza! Riparate! Contatto visivo, chiediamo rinforzi! Prendetelo! A riparo! Raccruparsi! Alla trabata. Inferno! Non fermo! Perdiamolo! L'ho fatto colpirlo! Mi ha colpito il suo rabbino! Mi ha colpito il suo rabbino! Non vado a colpirlo! All'attacco! Finito! Fuoco! Fuoco! Capite! Mi vado a prenderlo! Puoco! Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'attacco! Finiamolo! Mi ha colpito con il suo rabbino! Finiamolo! 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 Non vado a prenderlo! Attacco! Prendi questo! Eeeh, non vado a prenderlo! Ma se lo vuoi! E vuoi riguardo! Subiste danni! Massimo! Si è arrivato! Richiediamo il sopporto aereo! Ripeto, serve il sopporto aereo! L'ha inquadrato! Vabbè! Vabbè, uscire! Attacchiata! Un consiglio di una risposta! Vabbè! Vabbè? Vabbè, uscire! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Aspettiamolo! Riponati! Go! Dai! Attacco dal piatto! Ora lo credo! Passiamo la sinistra! Allarme! Allarme! La sicurezza è stata violata! Sparare gli intrusi a pista!